stiamo concludendo la celebrazione della giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone due le possibili considerazioni la prima è che se tratta di una giornata la terza merito di papa francesco stato lui a proporre a richiamare l'attenzione nell'agenda planetaria il problema della tratta delle persone questione sulla quale non si parlava mai si occultava o semplicemente si sottovalutava eppure si tratta di un fenomeno che coinvolge milioni di esseri umani bambini soldati prostitute mercanteio dei rifugiati e via dicendo si tratta in definitiva di una questione diceva le nazioni unite in un rapporto del 2008 che coinvolge anche questioni economiche e finanziarie importante quasi 10 miliardi di dollari la seconda riflessione è che parlare della tratta delle persone lottare contro la tratta delle persone è un modo di difendere l'umanità di tutti in particolare l'umanità dei più deboli